Eccoci qua sullo schieramento di partenza accanto alla terza posizione della griglia dove c'è Valentino Rossi, la sua ombrellina. Si chiama Isabella, è una sorta di amuleto, lavora in una delle hospitality servendo ai tavoli e dando una mano a farla mangiare. Vedrete sempre lei e si vede da tanto tempo.